Primo ottobre e come ogni mese facciamo l'episodio sulle migliori altcoin del mese, ovviamente del mese di settembre che si è appena concluso. Sono su CoinPaprica, che spesso mi chiedete su quale piattaforma vado a fare questi ragionamenti. Questa tipologia di video la faccio spesso e volentieri su CoinPaprica perché ho iniziato così quest'anno, cercherò di finire il ciclo di un anno, poi vedremo magari se dall'anno prossimo utilizzare un'altra piattaforma. Adesso questa mi è molto comoda perché oltre a visualizzare gli andamenti su diverse finestre temporali, a partire dall'orario giornaliero, settimanale, c'è anche la possibilità di vederlo sul mensile, sul trimestrale, sull'annuale, quindi molto molto comodo e ha tantissime monete. Inoltre mi piace come si può disporre la visualizzazione e vi faccio vedere come. Solitamente imposto Return Rates e invece di guardare i ritorni sul dollaro, cerco di guardare i ritorni sul Bitcoin. Come vediamo qui in alto abbiamo il prezzo, 7 giorni, 30 giorni, 3 mesi, quindi un quarter e un anno. Allora quest'ultimo mese, questi ultimi 30 giorni, quindi il mese di settembre, ci fanno vedere Bitcoin a ribasso del meno 8.35%. Quindi questo che cosa vorrà dire? Vorrà dire che le stablecoin avranno una loro voce in capitolo in questa classifica del mese, in quanto le stablecoin rimangono sul valore fisso rispetto al dollaro. Avendo Bitcoin perso rispetto al dollaro vedremo una percentuale di rialzo equivalente o superiore a quella che è la perdita di Bitcoin. Andiamo a vedere, quindi impostando su BTC il rapporto ovviamente Bitcoin è 0% di perdita e già vediamo che USDT ha un più 9.35% per il ragionamento appena fatto. Questo quindi è stato un mese diciamo tra virgolette negativo in quanto c'è stato un ribasso sulla più capitalizzata e un ribassi anche considerevoli su tutte le altre a partire da quelle nella top 10. Infatti in top 10, a parte BNB e Binance, che già ci fa vedere un trend di questo mese importante, infatti questo mese qui, abbiamo un trend che potrei definire sui utility token, quindi quei token legati a delle piattaforme e in particolare piattaforme di exchange. Oltre a Binance ne vedremo delle altre. Escludendo le stablecoin, quindi escludendo Tether, vediamo che nella top 10 fino ad arrivare appunto anche alle prime 15 dove c'è giusto Monero che ha un importante rialzo che poi vedremo, tutte le altre sono in perdita. Anche perdite abbastanza considerevoli, Chainlink forse è la prima volta in quest'anno che perde così tanto, quindi Link fa un meno 30% solo in questo mese. Dot dopo una partenza a razzo perde un meno 26%, Litecoin perde un meno 16% e lo stesso Ethereum un meno 13%. Ma questo episodio è sulle migliori altcoin del mese, quindi andiamo a vedere quali sono impostando il ranking direttamente in questo modo qui. Premessa di questo video, dove intanto vediamo qual è la migliore altcoin del mese, io non parlo o non analizzo di altcoin in base alla mia scelta. Tante volte nei commenti leggo dei commenti del tipo, ma sembra quasi che tu non voglia parlare di questo, sembra quasi che tu non voglia analizzare questa moneta. Non è una mia scelta, semplicemente metto il ranking in base a quelle che hanno avuto una crescita maggiore, sempre rispetto a Bitcoin, perché faccio questo? Ripeto, perché se dobbiamo andare a diversificare il nostro portafoglio su delle altcoin che non siano Bitcoin, tanto vale farlo su quelle che crescono più di Bitcoin, perché il rischio è maggiore. Altrimenti sarebbe meglio avere il portafoglio più bilanciato, più esposto su Bitcoin stesso, se questo crescesse più di tutte le altre. Non avrebbe senso prendere un rischio maggiorato su dei token o su delle altcoin, che ovviamente hanno più rischio dal punto di vista anche dell'emittente, quindi potrebbe semplicemente fallire la società che lavora dietro a quell'utility token, perché parecchi token di utility, anche questa è una distinzione importante, ci sono delle monete come Bitcoin che hanno una blockchain e sono completamente decentralizzate, altri, tanti in questa lista, sono dei token che sono dei gettoni che rappresentano praticamente il servizio di una società. Quindi se quella società va bene e quel servizio cresce, la domanda per il gettone e quindi l'utilizzo di quel servizio aumenta. Aumentando l'utilizzo di quel servizio aumenta anche la richiesta del gettone per usufruirne e quindi aumenta il prezzo di quel token. È semplicissimo il mercato, non è complicato come tanti vorrebbero far passare. La prima di questo mese è Celsius, guarda caso, un utility token. Celsius è già stata coperta in un episodio precedente durante quest'anno, è una moneta, è un token che viene utilizzato all'interno di un servizio in SeFi. Che cos'è SeFi? Centralized Finance, quindi questa non è DeFi, non è Decentralized Finance dove appunto c'è magari un liquidity pool o un exchange decentralizzato. In questo caso c'è un servizio prevalentemente su app, su smartphone, ma anche appunto qui vediamo il sito, dove ci sono dei ritorni in base a determinati depositi. Quindi andiamo prevalentemente a depositare le nostre crypto, ad esempio USDC e riceviamo un 15.8% all'anno. Oppure Ethereum con un 8.87% all'anno che è molto alto, Bitcoin 6.13% all'anno. C'è poi la possibilità anche di prendere dei prestiti, quindi sia la possibilità di fare earn depositando, sia di borrow. Servizi simili ad esempio a BlockFi oppure Crypto.com Earn, quello stia lì, insomma. Che cos'è il token? Il token è prevalentemente e unicamente un utility token, quindi serve per avere degli sconti, delle agevolazioni sui servizi. Se utilizziamo ad esempio Shell token e scegliamo di prendere le reward in Shell invece che nella moneta che abbiamo depositato, facciamo il caso, depositiamo Bitcoin, se vogliamo prendere le reward in Bitcoin abbiamo quella percentuale che è il 6. qualcosa per cento, se vogliamo ottenerla in Shell c'è un ritorno maggiorato. E visto che Shell come token sta salendo, chi ha scelto di fare così in questo mese ha visto un bel ritorno, un bel rialzo. Lo possiamo vedere anche qui dal grafico, questo è CoinMarketCap, c'è stato un bel rialzo del token stesso. Oppure si può utilizzare per pagare indietro gli interessi e si ha uno sconto su quello che bisogna ripagare. E poi ci sono anche dei interessi, delle rate di interessi per grandi società che prendono prestito e con appunto i Shell, ripagando in Shell, hanno uno sconto su quanto devono ripagare di interesse. Questo è il funzionamento di Shell come Celsius, appunto molto simile ad altri, un servizio molto simile ad esempio a BlockFi che io ho presentato in questo mio canale. BlockFi non presenta un suo token, quindi quello che depositiamo riceviamo unicamente come percentuale, come interesse, la moneta che appunto abbiamo depositato. Passiamo alla seconda, la seconda è ABBC Coin. ABBC Coin è una moneta che vediamo spesso, soprattutto quando faccio l'analisi durante il Crypto Monday, delle monete più cresciute o le monete che hanno perso di più, quindi le top gainers o le top losers della settimana. Perché? Perché è una moneta che ha molta volatilità, è molto volatile. Questo mese fa addirittura un 155% al rialzo. Devo essere onesto, non è una moneta che mi ispira troppa fiducia, comunque andiamo a vedere di cosa si tratta. Innanzitutto ha rank 66 su CoinMarketCap, 31 centesimi, una crescita appunto molto elevata in quest'ultimo mese, ma guardiamo quanto abbia già fatto su e giù nel tempo. A quanto pare questa è una vera e propria moneta, ossia serve per fare dei pagamenti. Ha un suo wallet ed è una moneta digitale, una moneta per ricevere e pagare. Ricevere pagamenti e fare pagamenti. La sede è principalmente a Dubai e negli Emirati Arabi, poi c'è una sede a Minsk e Belarus. Questo è il wallet e c'è anche una piattaforma per poter fare shopping, quindi per comprare e utilizzare direttamente questa moneta per fare degli acquisti. Quindi è un ecosistema che serve in questo modo qui. Onestamente non ho mai utilizzato questa moneta, non ho mai utilizzato questa piattaforma. Se potete essere interessati, ovviamente questa è solo un'introduzione e non un consiglio agli acquisti. Giusto perché appunto è stata la seconda moneta più cresciuta di questo mese. La terza moneta è Theta, non è una new entry, non è una novità. Theta è già stata approfondita in uno scorso episodio, durante le migliori altcoin di uno dei mesi precedenti. Theta Network si definisce come un protocollo atto allo streaming decentralizzato. Quindi la sua moneta che è appunto Theta con rank 33, ha avuto un'importante crescita in quest'ultimo mese, lo vediamo. È un protocollo open source e permette lo sviluppo e l'esecuzione di applicazioni decentralizzate rivolte prevalentemente alla costruzione di piattaforme per lo streaming online. Quindi come caso d'uso ci possono essere e-sport, entertainment, peer-to-peer streaming. Insomma, abbiamo visto anche Theta TV che ricorda molto l'infrastruttura, ad esempio di Twitch. È molto simile anche nel suo aspetto. Eccola qui, Theta TV, l'abbiamo già vista in passato, dove ci sono al momento molti gamers. C'è anche qualcosa in streaming a livello di crypto. Io personalmente, anche Coinsquare come community, ha buttato già l'occhio a Theta TV. È sinceramente molto molto interessante. Quindi chissà se riusciremo a fare qualcosa in futuro. L'idea c'è su questa piattaforma qui. Fatta molto molto bene. Theta tra l'altro ha le spalle coperte, perché dietro ci sono degli sviluppatori, dei nodi importanti, come ad esempio gli Enterprise Validator Nodes, che sono Google, Binance, Blockchain, Dotcom, Gumi. È già stata, appunto, coperta da diverse testate molto importanti, tra cui anche Nasdaq ed altre, come possiamo vedere qui. Ottima crescita del 55%, sempre ricordando che è in rapporto su Bitcoin. Quindi Bitcoin è sceso in questo mese, quindi tutte le monete che hanno fatto percentuali così elevate, insomma, hanno fatto una performance molto positiva. Passiamo alla quarta. La quarta di questo mese è CyberVane, CVT come ticker. CyberVane su CoinMarketCap a rank 79. Importante crescita. Ha avuto un primo rialzo, una flessione e poi un'esplosione. viene definita come una cripto che opera su Ethereum platform, quindi io credo sia, appunto, definibile come token su Ethereum. Prevalentemente serve alla gestione di dati, dati decentralizzati, ossia che cosa vuol dire? È una gestione, un protocollo che cerca di creare un database legato ai dati personali e rendere possibile la monetizzazione dei nostri dati. Allora, qui il concetto è un concetto già conosciuto, dove noi al momento forniamo tantissimi dati a delle soluzioni centralizzate, che possono essere un servizio, un social, anche delle app. Insomma, diamo tantissimi dei nostri dati. Questi dati vengono spesso e volentieri utilizzati dai servizi per monetizzare e vengono rivenduti anche a nostra insaputa. Con piattaforme di questo tipo il dato rimane nelle nostre mani, perché viene comunque messo in custodia su una blockchain con un storage custodito dalle nostre chiavi e si ha la possibilità di poterlo utilizzare fornendolo alle società che ne vogliono, appunto, usufruire. E quando noi scegliamo di farlo, possiamo scegliere, appunto, anche di essere monetizzati e la monetizzazione su questo tipo di protocollo, quindi CyberVein, avviene appunto tramite la moneta in questione, che è CVT. Non è un concetto del tutto nuovo. Il concetto di tornare, appunto, in possesso dei nostri dati e poter noi monetizzare con essi è qualcosa che è già stato cavalcato da altri progetti. CyberVein ha avuto un ottimo riscontro in questo mese. La prima volta che vedevo questo progetto, sinceramente non lo conoscevo, sembrerebbe prendere molta trazione. Da notare come tutti questi progetti stiano nascendo su Ethereum, per questo spesso e volentieri vado a sottolineare di quanto Ethereum sia leader del settore per quanto concerne lo sviluppo di applicazioni decentralizzate e sistemi in blockchain di questo tipo qui, perché rendere la base dello sviluppo di questi progetti decentralizzato è la cosa più difficile. La blockchain Ethereum è al momento tra le più diffuse, quindi anche tra le più sicure. Creare un progetto che vuole essere decentralizzato da zero è molto difficile. Se ci si appoggia su una piattaforma che già lo è, il tutto diventa molto più affidabile. Visto che si parla di decentralizzazione di dati e conservazione di dati personali, questo è un valore molto molto importante. Perderebbe tutto se appunto si fa un discorso del genere e poi si fa il lancio di una blockchain che magari sulla carta potrebbe essere più efficiente di Ethereum, ma poi non ha decentralizzazione. A questo punto tanto vale utilizzare un database e sarebbe molto molto più efficiente e molto meno costoso. Alla quinta posizione abbiamo X. X anch'esso non è una novità. Ho fatto, mi sembra proprio oggi, gennaio o febbraio. È stata una delle migliori altcoin del mese. Basterà cercare poi sul mio canale. Vi faccio vedere, è semplicissimo cercare, basterà andare sulla pagina. Qui su questa lente di ingrandimento, cercare la parola chiave che si vuole. Quindi ad esempio dobbiamo cercare in quale video ho parlato di X. Si scrive X, si cerca. Ed ecco qui, le migliori cripto di aprile. Quindi nelle migliori cripto di aprile e anche di marzo avevo parlato di X. Perché ci sono comunque dei tag all'interno e delle parole che vengono ricercate. E basta vedere questi video qui per trovare dove si è parlato. È semplicissimo, quando spesso e volentieri mi chiedete questo, basta cercarlo. Io faccio questo lavoro qui. Anche X, diciamo, è di dubbia natura. Infatti questo mese qui ci sono diversi progetti che non è che mi ispirino così tanto come succede invece magari in altri mesi. Anche perché forse è un mese, diciamo, depressivo dove Bitcoin è sceso. Quindi sono saliti i progetti dalla dubbia provenienza. X si qualifica come piattaforma che vuole far soldi. Ecco, non c'è altra descrizione. Lo stesso fondatore, che è Richard Earth, dice di come effettivamente chiunque utilizzi la blockchain è interessato a far soldi e nient'altro. E quindi questo progetto qui vuole semplicemente fare questo. X è un token su Ethereum tra l'altro. Ha un suo processo, diciamo, di staking. Ho descritto tutto in quel video, quindi andate a vedere di cosa si parla. Il problema è stato che effettivamente però questo token, a parte il lancio e la tanta pubblicità fatta, qui abbiamo visto, sono stati anche tappezzati i taxi di Londra con X, con la pubblicità di X. Effettivamente dopo un primo rialzo molto importante, proprio a aprile-maggio, poi si è avuto un calo abbastanza significativo del token, del prezzo del token. Un rialzo e di nuovo un calo. Diciamo che non proprio tutti hanno abbracciato l'idea del fondatore. Vedremo come evolverà in futuro. Sinceramente non nutro troppa simpatia per questi tipi di progetti che non portano un reale valore aggiunto. Alla sesta posizione c'è Demidas Touch, con il suo token TMTG. Questo è un altro equidogne che si vede spesso nella top 100. Praticamente Demidas Touch è un token, questo TMTG, che serve come utility token nel servizio e la piattaforma di digitalizzazione dell'oro. Infatti Digital Gold Exchange è una piattaforma dove si può digitalizzare l'asset fisico, ricordando appunto il re mita, che era quel re mitologico che toccando qualsiasi oggetto lo trasformava in oro. Ecco qui c'è il classico digitalizzare l'oro. Secondo me non è, per il mio, diciamo, giudizio, non è tra i migliori servizi che fanno questo, mi affiderei più ad altri. Ho fatto un video dedicato parlando di quali sono le stable coin, diciamo, che poi definire le stable coin è sbagliato. Quelle coin peggate ad oro fisico che personalmente mi piacciono di più a partire da Pax Gold o altre. Questo non è tra i miei preferiti, però è uno di quelli che comunque sta prendendo trazione. E questa moneta qui, il suo token, lo vediamo qui, TMTG, serve per la gestione dell'exchange. Però non c'è poi troppa descrizione neanche sul sito. Sono andato a vedere quello che è il white paper per capire un po' di più di cosa si tratta. E praticamente è un utility token che serve come gettone per agevolare gli acquisti e lo scambio sulla piattaforma di exchange. È così che viene spiegato. Poi nella descrizione del token qui si fa riferimento appunto al tocco di Remida, quindi insomma, è alla mitologia greca. Quando vedo in un white paper, diciamo, una descrizione così poco tecnica, non è che mi faccia troppo impazzire. Comunque sia, magari il progetto poi è valido, io non so, non mi ispira troppo, ecco. Arriviamo al numero 7, abbiamo già visto, c'è Binance Coin che è la moneta che praticamente performa meglio quest'anno. So che non è un italiano corretto, performa. Comunque sia, BNB fa un 36.8%, è la percentuale più alta della top 10. Binance Coin è un altro utility token, quindi per ritornare al discorso di come questi token questo mese siano stati, l'abbiamo fatto la voce grossa, ha avuto un rialzo importante perché stanno sviluppando tantissimo, soprattutto lato finanza decentralizzata. Si sono uniti a tantissimi progetti, anche ad esempio a Flamingo stanno supportando come Binance, come infrastruttura, tutta la crescita dell'exchange decentralizzato basato su NIO. La blockchain di Binance sta sviluppando e sta crescendo, quindi anche la Binance Coin comincia ad avere un suo utilizzo e un suo senso più concreto, oltre a tutte le agevolazioni come utility token all'interno dell'exchange centralizzato. Insomma, è una nuova ripresa, in tanti l'aspettavano perché c'è stato un calo che è durato parecchio, parecchi mesi di BNB. A proposito, sto preparando il video legato appunto a Flamingo, aspettando anche la funzionalità di swap che ancora non è stata integrata, così per avere una visione completa di questo servizio qui. Numero 8, ZAB. ZAB token, rank 73, crescita molto importante ma non è al suo all time high, è un altro utility token legato ad un exchange. Infatti, questo ZAB.com, uno degli exchange che ho usato meno, in realtà quasi per nulla, onestamente ne ho tanti, ho utilizzato anche giusto per fare esperimenti diversi exchange, non è tra questi, questo ZAB.com, e il suo token è un altro utility token per exchange, quindi insomma rispecchia un po' questo trend. La stessa cosa vale per OKB, che è al numero 10 questo mese qui, quel mese di settembre. OKB è il token di utility di OKExchange. Lo troviamo qui, salito abbastanza, con un rank 45, vediamo la sua crescita, molto vicino al suo all time high. E qui ci descrive che cos'è, praticamente un utility token dove gli holder possono beneficiare di funzioni esclusive sull'exchange, sulla piattaforma di exchange, con un ampio raggio sull'ecosistema e sui casi d'uso disponibili. Praticamente è un po' questa la sintesi del trend di questo mese qui. Tra l'uno e l'altro abbiamo avuto una crescita importante di Monero, quindi un rialzo della moneta legata all'anonimato e alla privacy più famosa del settore crypto, che fa un 25.96%. Monero è una di quelle monete storiche, una di quelle che comunque ogni tanto su diversi cicli fa il suo rialzo, è sempre lì e ha sempre il suo caso d'uso. Ovviamente c'è quella faccia, diciamo quella zona grigia o quella faccia oscura di Monero e il suo utilizzo su deep web e su altri casi d'uso meno legali, ecco. Comunque sia, quando l'insicurezza dei mercati aumenta, quando aumenta anche l'insicurezza sulle monete in generale, magari quando anche c'è un calo consistente su bitcoin o su altri tipi di monete, Monero acquisisce sempre il suo valore, diciamo quella moneta che sarebbe sempre da considerare quantomeno un pochino nel portafoglio. Mentre preparavo questa classifica, Tornext non era tra le più cresciute di questo mese, quindi diciamo essendo oggi al primo ottobre vado ad escludere questa moneta perché è stata praticamente avuto forse un rialzo repentino, in quanto non era configurata prima in questa classifica qui. Passo a SoloGenic, Solo è stata analizzata anch'essa in un episodio precedente. Secondo me questo è uno dei progetti più interessanti, già lo dissi quando ne parlai, penso ad agosto se non sbaglio, adesso con i mesi è facile confondersi. Perché? Perché va praticamente a tokenizzare delle securities o delle azioni o comunque degli asset legati al sistema tradizionale, al mercato tradizionale, come ad esempio stock, ETF, commodities, molto molto interessante, una sorta di asset sintetici, un po' il discorso che fa Synthetix. Direi che quantomeno lo studio è da farcelo, cioè ne vale veramente la pena secondo me. Almeno studiarla, non so come andrà in futuro e se riusciranno a sviluppare per bene la cosa. Non è la prima volta che appunto la vediamo tra le migliori del mese. Poi abbiamo Digibyte, Digibyte è un'altra moneta storica, moneta molto molto efficiente, questa è una moneta pura, una cryptocurrency, ossia una moneta atta al pagamento e ha un'efficienza molto elevata, il suo buon livello di privacy, costi bassi, è uno di quegli ecosistemi che appunto esiste da tanti tanti anni, è stata una delle prime monete che ho conosciuto quando mi sono approcciato a questo mercato, quindi non scopriamo niente di nuovo. Per concludere questa classifica di questo mese abbiamo Loopring, Loopring anch'esso, ne ho già trattato durante uno scorso episodio, rappresenta un layer superiore per la gestione dell'efficienza e dei costi della network, della rete e del protocollo Ethereum. Infatti Loopring, rank 58 con un'ottima crescita in questo ultimo mese, è un protocollo per far scalare exchange non custodial, ossia decentralizzati su Ethereum. Tecnicamente utilizza ZK Rollup, quindi la tecnologia ZK, per sviluppare appunto exchange e protocolli di pagamento su un livello superiore, è praticamente un layer 2, un livello superiore su Ethereum legato agli exchange, grazie alla tecnologia A Zero Knowledge, la Zero Knowledge Proof. A cosa serve il suo token? LRC token può essere messo in staking dagli holders e con questo si possono guadagnare delle fees, quindi delle commissioni dal protocollo, in base agli utilizzi dei DEX che sono costruiti sul protocollo stesso. Infatti immaginiamo appunto la costruzione di un protocollo di un exchange decentralizzato che utilizza il protocollo Loopring, per ogni scambio e ogni commissione che viene pagata, tutti i possessori di LRC vanno a guadagnare un po' di quelle commissioni in base a quanto hanno messo in staking. Protocollo molto interessante, soprattutto se il trend degli exchange decentralizzati continuerà a crescere. Questa classifica si interrompe bruscamente con una serie di stablecoin, con una serie di monete. Leo in realtà non è un stablecoin, è un'altra moneta legata a un exchange, in questo caso Bitfinex. Tra l'altro mi sono dimenticato di dire che anche Celsius andrà a diventare partner di Bitfinex, infatti tra un po' Bitfinex avrà la possibilità di guadagnare sui propri depositi, quindi avere la funzionalità di earn che viene sviluppata grazie a Celsius, e anche questo è uno dei motivi per cui Celsius è salito un bel po'. E poi vediamo appunto le stablecoin, TrueUSD, DAI, USDC, Tether, Paxo Standard, HUSD, Binance USD, insomma tutte le stablecoin e poi arriviamo a Rivain, NIO ed altre. NIO che aveva fatto una bella crescita, poi è un po' calato e ha cresciuto tanto appunto per l'annuncio e il lancio di Flamingo. Detto ciò, queste erano le migliori altcoin del mese di settembre. Questa volta voglio fare un appello, voglio fare una call to action a fine video. Visto che spesso vi piacerebbe sapere quali saranno le migliori altcoin del mese successivo, quindi oggi è il primo ottobre, da oggi inizia un nuovo ciclo diciamo di questo mese, e tutti vorrebbero sapere quali saranno le migliori altcoin del mese successivo. La cosa però che non si può fare è un'analisi soggettiva, ad esempio da parte mia, di quali queste saranno. È praticamente impossibile poterlo dire a priori. Magari però possiamo utilizzare la conoscenza di gruppo, quindi commentando sotto questo video, lasciando un commento secondo voi quali saranno quelle che cresceranno di più nel mese di ottobre, possiamo avere un resoconto unendo la conoscenza di tutti quanti. Quindi vi invito a lasciare il commento di quali saranno secondo voi le migliori altcoin, o quale sarà secondo voi la migliore altcoin del mese di ottobre. E poi vedremo se sarà così, lo analizzerò vedendo i commenti alla fine di questo mese o all'inizio di novembre. Grazie per l'attenzione e per questa tipologia di video ci vediamo appunto alle migliori altcoin di ottobre.